Noi abbiamo Sosenatos, ex miniera, un luogo che è tecnicamente perfetto per ospitare questa infrastruttura, ce ne sono pochissimi al mondo di luoghi così. Con queste parole la Premier Giorgia Meloni oggi ha candidato ufficialmente l'Italia a ospitare l'Einstein Telescope, il più potente cacciatore di onde gravitazionali mai costruito. A presentare a Roma la candidatura del sito di Sosenatos con la Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, c'erano i Ministri dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il Nobel Giorgio Parisi e il Governatore della Sardegna Cristian Solinas. La Presidente ha voluto sottolineare con la sua presenza quanto il Governo ci tenga a questa candidatura. E che volevo offrire con la mia presenza, oltre a quella ovviamente dei Ministri, che ringrazio, la attenzione, la volontà, la dedizione che il Governo italiano intende mettere sulla candidatura dell'Italia a ospitare l'Einstein Telescope. Per il Presidente Solinas l'Einstein Telescope è la grande sfida per il futuro. Crediamo che uno dei grandi vantaggi, oltre l'indotto lavorativo e un intervento ad alto tasso di occupazione, solo la realizzazione di 30 km di gallerie, a quella profondità sicuramente svilupperà, come ci ricordava il Ministro Calderone, tantissime ore di lavoro. Ma è un investimento che metterà la Sardegna e l'Italia per i 50 anni successivi alla sua realizzazione al centro della comunità scientifica internazionale di chiunque voglia sviluppare ricerca in questo settore.